Perder la vita a 22 anni in un'azienda tessile dopo essere rimasta imprigionata in un macchinario. La tragedia è accaduta in provincia di Prato, la morte di Luana, giovane mamma di un bimbo di soli 5 anni, scuote le coscienze e drammaticamente riporta in primo piano il grave problema degli infortuni sul lavoro. In Italia, dall'inizio della pandemia al 31 marzo 2021, gli infortuni legati al Covid-19 denunciati all'INAIL sono stati 165.528. 551 i lavoratori che hanno perso la vita in seguito a contagio, di cui 180 in Lombardia, quindi il 31%. Quest'anno l'INAIL di Sondrio ha ricevuto da gennaio a marzo 488 denunce di infortunio. Di queste una riguarda il decesso di un lavoratore. Nel 2020, nel primo trimestre, i casi denunciati furono 530. I dati definitivi 2020 spiega la nota diffusa da Giorgio Nana, presidente del Comitato Provinciale INAIL di Sondrio, che questa mattina ha incontrato il direttore provinciale dell'istituto, Luigi Manna, si potranno avere non prima di settembre-ottobre, in quanto le denunce vengono prese in carico e poi valutate. Bisogna infatti accertare se ci siano tutti requisiti i presupposti per definire infortunio un caso denunciato. 1586 erano state le denunce pervenute all'INAIL di Sondrio nei primi nove mesi del 2020, contro i 1734 del periodo gennaio-settembre 2019. Il calo è stato del 9%. Nel 2020 il Covid ha avuto un'incidenza rilevante, pesando per oltre il 50% sul computo totale. I casi di infortunio legati alla pandemia, quindi le positività riscontrate per ragioni di servizio in Valtene-Valchiavenna, sono stati 890. Gli infortuni mortali denunciati nel 2020, fino al terzo trimestre, sono stati in tutto 10. Di questi tre sono stati riconosciuti dall'INAIL, uno propriamente per incidente sul lavoro, uno ricondotto a malattia professionale e uno al Covid. In Lombardia nei primi tre mesi di quest'anno crescita doppia cifra per gli infortuni con esito mortale. Dai 21 decessi registrati nel 2020 si è passati ai 27 di quest'anno l'incremento del 28%. A presto, a presto, a presto, a presto, a presto.